Sì, è come noi! Ma perché mi hai portato qui? Allora, ti ho portato qui prima di tutto perché ti devo dire una cosa fantastica, una notizia proprio... Cioè, casca come il cacio su maccheroni, capito? Sì. Il cecchierini sta facendo un film nuovo, sta cercando un personaggio, mi ha chiamato, mi ha detto, cerco questo personaggio, praticamente è un grosso personaggio, capito? E insomma, io dovrei fare questo film con lui, insomma, sono proprio contento, io brinderei subito. Ma che brinda? Dai, brindiamo! Ma cosa brindi? Ma io brindo da solo. Ma certo, ma ho un entusiasmo. No, no, io non mi fido, poi se i cecchierini insieme, no? Sì, i cecchierini insieme. Beh, vedete insieme, no? Ma che tu dici, sono di cecchierini? Sì, di cecchierini. Non è, uno si crea, ma non è vero assolutamente niente. Ah sì, buonasera, buonasera, ciao, ciao. Ecco, dai, oh, mi raccomando, non fai bene. Ciao, baci. Grande, grande, sei un ragazzo. È certo. Piacere. Perché te la conosce? Sì. Mi metto a sedere un attimo. Ma un sorzino? Ma guarda, meglio di no, perché io adesso lavoro, sono... Hai capito? Sono tu per lavoro. Bene. Allora, voglio dare una bellissima notizia, veniamo subito al dunque perché non ho tempo da perdere. Praticamente faccio il futuro. Iniziamo con lui. Mi guarda, ma... Sono contento. Sono contento. Fossarti di gioia. Eh, ma aspetta, ancora non ti ho detto tutto. C'è un personaggio di Milanca. Personaggione... Quindi, di un dottor Medusa, eh, con De Laurentiis insieme. E questi sono proprio dei dettagli proprio che ci vogliano. È bellissimo. Guarda, io siccome io non chiacchiero... No, noi siamo già d'accordo, guarda. No, no, ma io non guarda, io vengo con proprio... ho già il contratto, guarda. Contratto fin ceccherino. Quindi io te lo lascio... Guarda, a me non mi interessa. Io non lo voglio... Leggilo! Cioè, tra di noi non c'è bisogno di contratto. No, io ti dico anche la cinta. Quanto è lì? Non ti dico a cercare. Aspetta che... No! No! Lo devi legge! Mi va bene! Ti dico, mi va bene! Non si è parlato del personaggio! 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 Allora, a me mi serve lei! Io voglio lei! È un bel personaggio, eh! Tutte scene belle erotie! Un po' spintarelle! Però belle erotie! Quindi voi parlatene! Il contatto me lo mandi via email! Eh, cucciolotto! Ciao! E ti aspetto domani in ufficio, eh! Ciao bella! Grazie! Sono contento, eh! Però secondo me... No, ma invece guarda! Io invece credo di no! Non so niente se ti conviene farlo! Perché buffa è una vitaccia! Ma no! Lui ha smesso i riberi! Io non l'ho mai bevuto! Ma che ha smesso? Come fai? Ma vedo! Ma è il muso! Amore dai! Invece no! Oh! È andata bene, no? Eh? Benissimo! Cin cin! Cin cin! Benissimo! Sono soddisfazione! Sono soddisfazione! E alla grande! E vai! Borca Valero! Giù di tacco! Alla grande! Guarda! Sta giocando benissimo! Fiorentina sta giocando benissimo! Sì! Ma te hai rotto le scatole! Sì! Hai rotto le scatole! Adesso lo squadrone! Sì! Ma sempre dietro le partite del calcio! Ma anche Aleto! Pensa qualcos'altro! Pensa qualcos'altro! Ci penso! Ma proprio ora c'è la Fiorentina! Ma hai capito? Non è vero! Non è vero! Ti dico sempre determinate cose e te non le rapisci mai! Non le rapisci mai! Ma non me le dire ora! C'è la Fiorentina! Cisbio! Cisbio! Vieni! Ma cosa dici? Ma è tre mesi di Dio e il rovinetto perde! E chi vince? Te non sei normale! La Fiorentina dice! Te non sei normale! Bella! Fiorentina! Bella! Collosso! Senti! Morca Valero! Morca! Veramente! Morca Valero! 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 Morca Valero!